La copertina dell'Espresso definiva, non solo la copertina dell'Espresso, tutto l'articolo definiva Ilaria Capua, trafficante di virus. Il foglio fa bene perché ricorda anche che definì cinica strategia commerciale, quella di questa scienziata nel frattempo parlamentare, di trafficare sul virus. Il ceppo dell'Aviaria, altri dicono che ha isolato invece una parte del DNA dell'Aviaria, quello che conta è che è una grandissima scienziata italiana che fu accusata dalla procura di Roma, dal grandissimo Pignatone, fu accusata di fare traffico di virus, che non era il mio vecchio programma, ma sono virus, ceppi di virus mortali. Il rischio, stiamo parlando di una possibile epidemia, possibili condanne all'ergastolo.